Alla fine è accaduto quello che si temeva. Sulla megacentrale a biomasse di Cavallino la regione non ha deciso il TAR commissaria l'intero procedimento per il rilascio dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il 29 novembre l'ITAR deve essere chiuso definitivamente. È affidato a Maria Grazia Fusco, dirigente del Dipartimento per l'Energia e del Ministero dello Sviluppo Economico. La decisione è arrivata con una sentenza del 19 ottobre scorso in cui il TAR raccoglie il ricorso della TG Energie Rinnovabili. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione risale infatti a lontano 8 aprile 2008. Nella prima conferenza dei servizi la provincia di Lecce dice sì alla via, poi però aggiunge e la regione a dover decidere alla fine con il rilascio dell'AIA. Dal novembre 2009 Bari si trincera però dietro un silenzio assoluto, tanto che a febbraio 2010 il TAR ammonisce di chiudere il procedimento entro 90 giorni. Riparte allora la conferenza dei servizi. ARPA e ASL dicono no, ma questa volta il no è anche della provincia. La differenza con l'ok che precedentemente in sede di via Palazzo dei Celestini aveva rilasciato crea l'impasse. Segue un articolato carteggio tra società, provincia e regione. Alla fine dell'istruttoria però ancora non si decide. Il primo giugno la TG Energie ripresenta ricorso al Tribunale Amministrativo. Due giorni dopo, il 3 giugno, l'assessore regionale allo sviluppo economico Loredana Capone annuncia ai nostri microfoni tempi brevissimi. Lo ripeto, vorremmo evitare un ulteriore contenzioso. Abbiamo bocciato il progetto di Casarano, oggi e lì c'è un contenzioso. Non vogliamo che un altro contenzioso nasca anche per Lecce. Pur non potendolo impedire aprioristicamente, l'ufficio sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari. La risposta sarà brevissima. I tempi invece sono stati biblici. Abbiamo scritto ancora una volta alla provincia, spiega oggi la Capone. Le abbiamo inviato tutta la documentazione e integrazione per correggere il parere di via. Non c'è risposto. Cosa posso dire? Che spero che il commissario ora spieghi ai celestini che non si possono dare parere differenti in ambito AIA e via. 18 altri giorni di tempo, dicevamo. Di mezzo non c'è una semplice autorizzazione di carta. C'è un rischio sanitario ambientale altissimo per il territorio denunciato già dalla direzione scientifica dell'ARPA e dell'ASLA nelle loro bocciature. La centrale proposta ad oli vegetali è di ben 37 megawatt enorme in un'area. La zona industriale di Cavallino è già appesantita dalla presenza di due discariche e un impianto di produzione di CDR.